il io mi ricordo quando era tanto che lo giudicavo normale che era il top di pace non capisci che ti è il punto? ah ci pensiamo che uno in un momento io lo conosco ecco perché mi devono un po' mancare da un po' in un paese quando me non mancano da un po' io c'è delle cose tu troppo lo sai che ti è il tempo che capisci c'è un momento che non vorresti capisci cioè capisci che un cristiano certe cose capisci arrivo a ragione che hanno un momento troppo d'alti invece certe cose mi fermava cioè invece fermavmi i cosi fermavmi i cosi che non si fanno e non fermavmi i cosi giusti capisci che ci succede? a santo sai che c'è? una cosa... una reazione subcutanea c'è uno detto che stiaffa e dipendenti però non c'è mentalità malattia mentalità malattia mentalità malattia perché? perché? uno in domattia uno in domattia ancora è uno giudicato malattia di uno che non ha più che non è capisci tutto? per un singol changed una città tutto ciò e 就 c'è in stato ogni che tolghi sottotitoli non si dice ma neanche la caccia, quando mi diceva che c'era un uomo e c'era un uomo e c'era un uomo per me la faccia è Mancuso, proprio da meno venuto perché ogni anno io ero uno dei Mancuso e ci sono detto la Rocco perché come sta facendo un altro lavoro, un altro campeggio che sta facendo un'altra cosa grossa sta dicendo, no? ci sta Rocco perché ieri erano ieri, sono chiesti, non c'era tanto, si diceva che faccio questo lavoro e mi parla di che ci sono state un uomo Capisci? Dici, Sierci... Amorino, dici... Il mondo giusto è un pezzo fisico. Famiglia! E se volete venire, devo fare un tuo favore per rispetto. Non che mi faccio il tuo favore a me, capisci. Allora è sbagliato un po' di scopo. Perché è nascito Roccanello, non è più cancellato. E tutti questi decenni che fu cancellato, gli paga tutti i cosi. Stiamo nascito a luna, che ha capito di Carconia, Soledelfia, Polia e Angitola. Davide Roccanello. Se volete venire a me, non mi abbusta io, non mi abbusta io, non mi abbusta io. Voi venite a me. Mi dicete che volete, dici tu sei un po' cazzo, ragazzi. E' proprio a Dato Dato ciò io.